Sottilissimo ha tutte le difficoltà dell'essere sottilissimo, cioè del caricamento, della saldatura, perché quando noi lo andiamo a saldare, essendo un capillare molto sottile, è chiaro che le variazioni di calore le prende sia verso il freddo ma anche verso il caldo, per cui crea degli sbalzi non indifferenti. L'altro sistema invece è un sistema che è sovrapponibile al criotop come sistema di caricamento, però poi c'è una camicia che viene chiusa, saldata e l'inconveniente di questo sistema, se inconveniente si può dire, è che si crea, ovviamente qui è ingrandita questa immagine, una camera d'aria che crea un isolante tra il gamete e l'azoto liquido, per cui non si raggiunge quel raffreddamento dei meno 196 sull'immediato, ma c'è quella frazione di secondo in più, quindi questo è il lato negativo, però il lato positivo è che evito la contaminazione di azoto liquido, da azoto liquido. I vantaggi fra le due tecniche, vitrificazione verso slow, dette prima Giovanni, la cosa che a me mi interessa ovviamente sono quelle dei cristalli, che ovviamente nella vitrificazione non li abbiamo mentre li possiamo avere con il congelamento lento, la parte economica si può stare, che qui è detto più economico e meno economico, si può stare a discutere quanto si vuole, dopo magari costa di più uno di quello, però di là i vials poi costano anche quello a loro volta, insomma però qui ognuno può tirare l'acqua al suo molino, però quello che a me mi interessa è il fatto di evitare danni al mio gamete dati dai microcristalli che si possono formare intracellulari. E qui sono rielencati i pro e i contro, che sono quelli che vi ho appena enunciato nella mia presentazione. A livello del... quali sono le problematiche della crioconservazione degli ognuno? Sono delle variabili intrinseche alla cellula e delle variabili legate alla tecnica stessa. Ovviamente sappiamo tutti la dimensione dell'ovocita, la qualità, l'età dell'ovocita, ha parlato prima Giovanni di questo, lo stadio maturativo, anche la presenza del cumorofon, ma ormai queste sono cose passate, diciamo sorpassate, e la differenza della tecnica è legata appunto al tipo di crioprotettore, alla concentrazione e alle due metodiche. Sulle variabili intrinseche, qui sapete, ha accennato anche prima Giovanni, quindi non mi addentro, quelle che possono essere i danni a cui va incontro il nostro ovocita, lo stress osmotico, non sto qui a ripetermi, che è insito nelle due metodiche, sia lento che vitrificazione, perché è insito della cellula, della cellula uovo, di come è conformata la nostra cellula uovo. Il fatto che tutti i modelli animali che abbiamo utilizzato non tengono però conto che un conto sono gli ovociti umani e un conto sono quelli murini, che hanno una loro differenza notevole, qui vedete in questo lavoro che gli ovociti umani sono più permeabili al propandiollo che al dimetilsulfosido, mentre quelli murini è presto che identica. Quindi questo a volte anche la mancanza di un modello animale corretto ha portato e porta tuttora alle differenze che noi abbiamo. Qui sullo stadio di maturazione lascio perdere. Per quanto riguarda già, e ritorno alla mia esperienza iniziale, già nell'87 e nel 94, qui vedete prima Cenne e poi la Goc, dicevano della tempistica. Gli ovociti dovrebbero essere congelati poco dopo il pick-up, tra le 38 e 40 ore dall'HCG. La Guc diceva 8 ore addirittura, siamo però nel 94. Questo perché? Perché gli ovociti cosiddetti datati o invecchiati è correlata a un decremento del tasso di fertilizzazione e aumento di poliplodia. Qui vediamo il lavoro che accennava prima Giovanni del gruppo di Lodovico Parmigiani, dove addirittura lui ha presentato la diapositiva dove raggruppa fra due e maggiore di due ore. Lui invece qui ci sono tre, cioè gruppo A, B e C. Il gruppo A è minore di due ore, il gruppo B è fra le due e le tre ore, il gruppo C è dopo le tre ore. E come vi ha accennato Giovanni, i risultati migliori si ottengono se noi si va a congelare le nostre uova entro due ore dal prelievo. Ovviamente in termini, poi questo si rivede, si vede in modo chiaro quando si va a vedere gli embrioni di buona qualità che noi andiamo a ottenere. Questo perché? Perché c'è quello che va sotto il nome di invecchiamento ovocitario. L'invecchiamento ovocitario può essere sì invecchiamento in vivo da donna anziana, abbiamo visto i dati nelle over 40, ma anche da invecchiamento in vitro. E questo si ripercuote in che cosa? In un elevato tasso di frammentazioni. Questo perché? Probabilmente perché l'invecchiamento riproduttivo è correlato, probabilmente formandosi tutte le... l'aumento delle attività ossidanti, probabilmente è correlato a una perdita, a una perdita della capacità riparativa dell'ovocita stesso. Quindi l'uovo non riesce più a riparare certi danni. Lasciamo perdere il citoscheletro, lasciamo perdere anche perché il tempo vola, lo spindle, ecco, questo qui è sullo spindle. Ora, questo è un dato che non è stato riportato, un lavoro della Cobo, dove mette a confronto slow verso vitrificazione. E vedete che a livello di spindle non c'è grossa differenza. A livello di... Però vedete la percentuale di sopravvivenza dei nostri ovociti, che con il congelamento lento, ormai siamo sul 70%, percentuale più, percentuale meno, ma con la vitrificazione, la percentuale di sopravvivenza, siamo già sopra all'80%. Questa è quella meta-analisi che ha presentato Octay, rappresentata anche Pablo, e lui conclude che c'è un... con tutti i bias, con tutte le problematiche che ha enunciato Pippa Levisetti, però conclude che c'è un elevato tasso di gravidanza utilizzando la vitrificazione. Questo... Un altro esempio, anche questo mi sembra che è stato citato da Giovanni prima, a confronto congelamenti lenti da vitrificazione, e la cosa su cui mi voglio soffermare è che, mentre qua abbiamo, con i vari protocolli, nel corso degli anni, migliorativi, però, la percentuale di sopravvivenza a stento supera il 70%, mentre con la vitrificazione, in questo caso, arriviamo al 91%. Riporto questo dato del gruppo italiano, del gruppo Ifadini e della Beatrice, dove mette a confronto congelamento lento e vitrificazione, e, come vedete, sono le percentuali di sopravvivenza, sono decisamente a favore della vitrificazione. Noi, come SEER, come società, proprio perché io pensavo e volevo che la metodica del congelamento fosse una metodica, della vitrificazione, fosse una metodica riproducibile e in mano a tutti, abbiamo messo in piedi uno studio multicentrico, uno studio multicentrico in cui, forse anche ingenuamente, ma secondo me era stato anche voluto, abbiamo messo dentro persone che avevano un'esperienza di congelamenti precedenti, quindi che congelavano gli embrioni prima, centri piccoli, centri grandi e anche gente che non aveva mai congelato. E, ovviamente, abbiamo utilizzato i due sistemi, prima siamo partiti con il Criotip perché era, quando siamo partiti, era l'unico sistema chiuso in nostro possesso, mi manca poco alla fine. E vi voglio far vedere come c'è una enorme variabilità qui abbiamo un'esperienza